Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Ancora un assalto ad un'azienda di preziosi della provincia di Arezzo. L'ultimo colpo nella notte in Valdichiana. Attorno alle 2 una banda si è infatti introdotta in una ditta che lavora argento a Tego e Leto. I banditi sono entrati all'interno grazie ad un muro praticato in un'azienda confinante. Così sono riusciti a portare via tutto quello che hanno trovato, argento e bronzo, che serve appunto per le lavorazioni. Il metallo è stato trovato fuori dalle casse porti. Sul posto i carabinieri che hanno dato avvio alle indagini. E' ancora in via di definizione l'ammontare della bottino, ma anche questa volta potrebbe trattarsi di un quantitativo notevole di metallo prezioso. E' un doppio assalto invece in Valdarno ai punti vendita del forno Canu. Hanno sfondato la porta e una volta all'interno hanno arraffato quel poco che c'era nel registratore di cassa e si sono dati alla fuga. Ancora un furto in un punto vendita dell'antico forno Canu, il secondo nell'arco di nemmeno un mese. Uno si è consumato a Montevarchi, l'altro a San Giovanni Valdarno. Prima è successo la notte di Pasquetta, fra il primo e due di aprile, che sono entrati qui in questo negozio di Montevarchi. Hanno buttato giù la porta a pedate. Quindi insomma, ho visto con le telecamere, insomma c'è stato del lavoro da parte di questa persona che sembrava solo. È andata insomma alla casa e chiaramente di notte non c'è niente, se non pochi spiccioli. Quindi qua io ho il danno che la porta è stata, dovrà essere rifatta, insomma si sta rifacendo. E il secondo episodio, dopo dieci giorni, l'undici o il dodici, non mi ricordo nemmeno, a Sant'Andrea. Lì insomma è stato un pochino più lavorioso perché hanno spaccato completamente la porta. Perché la porta aveva un'apertura dalla parte esterna, a differenza della porta di Montevarchi, si apriva internamente. La porta esterna con, non so, un piede di porco, un pezzo di ferro, non si vede bene dalle tre camere. Lì invece erano due. Per l'appunto ho dei tipi di allarme, io che andrò a sostituire ovviamente dei sensori forti alle porte. Perché insomma, purtroppo negli ultimi anni ne successe diverse di cose, nei punti vendita. Montevarchi è la terza o la quarta in dieci anni. E poi in altri punti vendita più o meno ogni tanto ci hanno provato. In entrambi i casi è stata presentata denuncia ai carabinieri che adesso stanno indagando sugli episodi. Misero il bottino, ingenti invece danni che i ladri si sono lasciati alle spalle, tra porte spaccate, forzate e registratori di cassa distrutti. Qui il danno è un posto abbastanza, più o meno tranquillo. Quindi quando a ondate ci sono dei gruppetti che bisogna cercare in qualche modo di fermare o di arginare, bisogna impegnarsi. E fin tanto non si riesce a farlo, bisogna stare attenti. Ancora cronaca, le fiamme gialle e aretine hanno sequestrato quasi 12.000 pezzi di grandi maison della moda contraffatti. Quasi 12.000 articoli contraffatti posti sotto sequestro e due titolari d'azienda denunciati. Questo il bilancio dei due controlli della Guardia di Finanza di Arezzo in altrettante ditte del territorio. I marchi taroccati erano note griffe nazionali ed internazionali della moda, peletterie e accessori in metallo per la cui realizzazione i finanzieri hanno trovato gli operai all'opera proprio durante le ispezioni. Un primo controllo in una ditta gestita da un cittadino di origini pakistane. Qui i militari hanno sorpreso alcuni operai intenti al montaggio, saldature e spazzolatura di articoli ed accessori in metallo e varie stampe con i loghi delle case di moda. Il titolare però non è stato in grado di esibire alcuna documentazione che legittimasse la detenzione di quella merce. L'altro intervento invece in una pelletteria gestita da una persona di origini cinesi, dove i finanzieri, i scatole di cartone, hanno trovato numerosi accessori in metallo per borse e cinture riconducibili a brand delle case di moda, anche in questo caso senza autorizzazioni. Al termine dei due controlli le Fiamme Gialle e Aretini hanno complessivamente sottoposto a sequestro penale 11.587 prodotti contraffatti e denunciato penalmente i due titolari delle rispettive aziende. Un ciclista si trova in gravi condizioni dopo l'incidente accaduto nel primo pomeriggio con un'auto. Lo scontro attorno alle 14.30 in località Sargiano, nell'immediata periferia Aretina. Per cause ancora in corso di accertamento c'è stato un violento impatto con un utilitario e l'uomo in sella alla bici, che ha riportato un grave trauma cranico. Per questo è stato disposto il trasferimento alle scotte di Siena. Sul posto, oltre ai sanitari dell'emergenza a urgenza, anche la Polizia Municipale per i rilievi di legge. E adesso torniamo invece a parlare dei giardini della Porcinaia. Ancora criminalità e degrado e cittadini chiedono più sicurezza. Tutte le sere ce n'è una. Anche ieri l'altro spaccavano le bottiglie e si davano dietro tentando di ferirsi. Ieri sera la stessa cosa con dei bastoni. Non li attraverso più questi giardini, quindi effettivamente è veramente veramente drammatico. Un tentato omicidio e poi nei giorni successivi risse e aggressioni con coltelli, bottigliate, scene da saloon finite anche con feriti. Teatro dei violenti episodi, i giardini del Porcinaia, area a pochi metri dalla stazione di Arezzo, che ciclicamente torna sotto i riflettori della cronaca per episodi di criminalità e degrado. Se non sono di sera sono nel primo pomeriggio, varia solo l'orario diciamo, ma le risse rimangono sempre all'ordine del giorno. Un'escalation che accresce giorno dopo giorno il senso di insicurezza di cittadini e commercianti. Ho paura per chi mi sta intorno, ho paura per la mia moglie, ho paura per il figliolo, ho paura per la mia mamma. Anche la mia dipendente ha paura la signorina a entrare la mattina alle 4 perché trova sempre alcolizzati al giro. Non si lavora tranquilli e la gente è un po' turbata, spaventata come tutti giustamente. Le associazioni di categoria Confesercenti e ConfCommerce dopo aver raccolto le stanze di chi questa zona la vive quotidianamente hanno scritto alla prefetta Maddalena De Luca e al sindaco Alessandro Ghinelli per chiedere un nuovo incontro. Più pulizia, più illuminazione, meno bivacco nei giardini. Attesa adesso anche la riqualificazione dell'aria come annunciato dall'amministrazione comunale di Arezzo. È il biglietto da visita della città perché chi proviene dalla stazione non può essere costretto tutti i giorni a assistere a queste scene o comunque a un degrado anche strutturale. Ancora un sequestro di cuccioli di cane ad Arezzo. Arriva una dura presa di posizione da parte dell'EMPA. Sono stati ritrovati stipati in un furgone. Arrivavano dalla Romania. Un viaggio di diverse centinaia di chilometri sommersi dalla merce. A salvare quattro cuccioli di cane la polizia municipale di Arezzo durante un controllo. Gli agenti infatti hanno fermato il mezzo e nel corso degli accertamenti hanno sentito il lamento dei cagnolini, affamati ed assetati dopo ore di viaggio in una delle giornate più calde di questo inizio primavera. Un fenomeno, quello del traffico di cuccioli dall'est che non accenna ad arrestarsi, condannato duramente da EMP Arezzo che da anni si batte contro quello che a tutti gli effetti è un reato. Io questo fenomeno lo combatto tantissimo perché bisogna riflettere che dietro a ogni acquisto, a ogni voglia tra virgolette di cane di razza, specialmente piccolo, specialmente i maltesi barboncini, c'è il maltrattamento degli animali. Quindi chi acquista in questi siti, chi fa arrivare questi cani dall'est, non può dire che vuol bene agli animali e per questo io ad ogni sequestro sono sempre più fortemente convinta che vanno dati a persone che hanno frequentato l'ambiente dei canili, che sono state vicine e che appunto sicuramente gli si confà, sicuramente piace, questo lo posso ben capire, però meglio a loro che a chi è acquistato. Chi è acquistato commette un reato. In che condizioni arrivano questi cani? Questi cani arrivano in condizioni pessime, in genere nascosti, devono viaggiare nascosti per non essere visti in eventuali fermi, chiusi in scatole, fanno lunghissimi viaggi perché logicamente meno stanno in autostrada, in strada e meglio è, addirittura ora li consegnano a domicilio, escono anche dai caselli e arrivano nelle città, quindi io veramente, è un argomento da aprire e sul quale riflettere molto e magari fare anche degli incontri. E' sempre l'empa di Arezzo accolto dei gattini, in questo caso che erano stati abbandonati e appena nati accanto ad un cassonetto. Qualche giorno fa ci ha chiamato una ragazza che ha trovato in una scatola vicino ai cassonetti a Siciliano quattro gattini con gli occhi chiusi. Ancora gattini appena nati e abbandonati. Dopo il grave episodio di Pestello, in Val D'Arno, dove dei mici erano stati chiusi dentro due sacchetti e gettati in un cassonetto, adesso un altro caso alle porte della città. Per fortuna abbiamo trovato due baglie, li abbiamo divisi due e due, e i gattini stavano bene, non erano piccolissimi nel senso, forse una settimana ce l'avevano quindi almeno un pochino di colostro della mamma l'hanno preso quindi speriamo che vada tutto bene, per ora sono vitali, mangiano, qualcuno ha iniziato a aprire gli occhietti. Ricordiamo però che questo è un reato. Sì, assolutamente. Anche a Castiglion Fiorentino un episodio simile come denunciato dal veterinario Alberto Brandi fortunatamente in questo caso i gattini hanno trovato una gattabalia. A parte che basterebbe sterilizzare, ma anche il discorso più semplice hai la gatta che ti partorisce, che cosa ti costa lasciare i gattini con la loro mamma? Fa tutto la mamma, ti non spendi niente, il latte glielo dà la mamma, li pulisce la mamma, non ti sporcano poi dopo quando sono autosufficienti uno gli trova un'adozione, ci chiama, ci contatta, veniamo in conto ma fare una cosa così nel 2024 per me non è possibile. Nonostante i continui appelli alla sterilizzazione, anno dopo anno lo stesso copione drammaticamente si ripete, gattini aperanati e abbandonati o d'orfani e così anche l'EMPA cerca valie umane. Forniamo tutto noi, latte, mangiare e una volta poi svezzati i gattini li riprendiamo noi e cerchiamo adozione. Torna martedì 23 aprile il Consiglio Comunale dalle 14 con la possibilità di seguire la diretta dall'home page del sito istituzionale o dalla canale YouTube del Comune. Per quanto riguarda il programma dei lavori, dopo le interrogazioni sono previste la variazione al programma triennale dei lavori pubblici e il riconoscimento di un debito fuori bilancio per la messa in sicurezza nella facciata di Palazzo Comunale, il rendiconto del 2023, la variazione al bilancio di previsione 2024-2026 ed ancora il rapporto annuale della Giunta, l'istituzione della figura del garante dei diritti degli operatori del sistema penitenziario e delle persone private della libertà personale, infine la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente e 14 atti di indirizzo. E adesso l'economia, 8 milioni di euro di finanziamento con garanzia saci da intesa San Paolo Maniva S.P.A. per investimenti in progetti di sostenibilità. Maniva è una delle 80 aziende italiane che si occupano di produzione di acqua e minerali, in particolare in bottiglie commercializza le acque delle sorgenti che sgorgano dal Monte Maniva nel comune di Bagolino in provincia di Brescia e nelle foreste casentinesi a chiusi della Verna con il brand Acqua Verna. E adesso voltiamo pagina. Anche l'asola toscana sud-est organizza i corsi per diventare operatore socio-sanitario. Sono stati pubblicati il 15 aprile scorso da Estar due bandi percorsi per diventare OS che interessano proprie strutture. Il primo da 1000 ore è quello base completo, il secondo da 400 invece riservato a chi possiede l'attestato di qualifica di addetto all'assistenza di base. Il termine fissato per la presentazione delle domande della relativa documentazione perentorio deve avvenire entro e non oltre le 12 del 14 giugno 2024. E adesso torniamo in Valdarno, ad Ambra, nello specifico dove è stato inaugurato il nuovo impianto di depurazione. Un impianto di depurazione che servirà a un agglomerato per la potenzialità di 1200 abitanti costato un milione e mezzo di euro. È quello inaugurato ma che era già in funzione ad Ambra nel comune di Buccine da Nuove Acque. Si tratta della conclusione di un progetto avviato nel 2019 con l'acquisto del terreno e completato nel marzo 2024. Prende gli scarichi fognari quindi di tutto l'abitato di Ambra. Questo è stato un progetto che ha incluso anche un completamento della rete fognare all'impianto che è qui dietro le nostre spalle. Quindi i refli fognari passano tramite una sezione che tecnicamente si chiama filtri per colatori su biodischi, fra l'altro è un trattamento biologico quindi completamente naturale e poi per caduta vanno a finire sempre su un trattamento finale di, chiamiamola filtrazione, che è una risofiltrazione che depura completamente il refluo che poi viene reso all'ambiente nelle condizioni utili e secondo i parametri che dice la normativa per poter essere recapitato direttamente nei fossi superficiali e poi quindi di nuovo al torrente. Questa è un'attività difficile perché i livelli con i quali dobbiamo compensare l'utilizzo che è stato fatto dell'acqua sono molto stringenti dalla legge. Qua abbiamo veramente una tecnologia all'avanguardia, un lavoro costante fatto da tecnici che conoscono il territorio e che quindi sanno esattamente dove mettere le mani. Il contributo delle varie amministrazioni locali chiaramente è sempre fondamentale e questo ci ha consentito nel tempo di fare delle belle opere come quelle che abbiamo inaugurato stamattina e quelle che abbiamo in programma anche nel futuro. Da oggi invece a Castiglion Fiorentino un nuovo servizio volto a contenere la produzione di plastica. Si tratta dell'eco compattatore mangiaplastica che si trova presso la struttura della casa dell'acqua. Utilizzare l'eco compattatore è semplicissimo, basta inserire bottiglie in pet vuote anche con il tappo avvitato, lasciare l'etichetta integra con il codice barre che certifica che la bottiglia in pet è riciclabile al 100%. A raggiungimento del punteggio stabilito poi basterà presentarsi con gli scontrini, la card, viva acqua all'ufficio ambiente per ritirare il premio che è stato riservato. E dalla Valdichiana alla Valtiberina è tutto pronto per la 49esima edizione della mostra mercato dell'artigianato. Arte ed artigianato si incontreranno nuovamente in uno dei borghi più belli d'Italia per un mix che da quasi 50 anni si dimostra vincente. Torna infatti per la 49esima edizione la mostra dell'artigianato della Valtiberina Toscana. L'appuntamento con la manifestazione di riferimento del settore è dal 25 aprile al 1 maggio. Un format collaudato per una manifestazione in linea con la tradizione ma caratterizzata da numerose novità che metterà ancora una volta in evidenza le eccellenze del fatto a mano nelle affascinanti botteghe del centro di Anghiari, 50 agli artigiani che animeranno il borgo della Valtiberina. Non mancherà poi uno spazio dedicato al settore artistico con le affascinanti opere esposte nella collaterale i maestri dell'arte Tratevere e Darno, 20 artisti presenti per un totale di oltre 100 opere e le iniziative previste nei giorni della mostra comprese le dimostrazioni dal vivo che consentiranno ai visitatori di immergersi nel mondo dell'artigianato. La cerimonia di inaugurazione è in programma mercoledì 24 aprile alle 17 nella rinnovata Sala del Cassero, dunque il giorno prima dell'apertura delle botteghe. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza, un pomeriggio per stimolare un pensiero critico e una presa di posizione nei confronti dei conflitti attualmente in corso. L'occasione sarà offerta dalla presentazione del libro Scomode Verità firmato dal giornalista e scrittore Alessandro Di Battista in programma alle 17.30 di sabato 20 aprile al Teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia. In Val di Chiana invece due giornate immerse nella storia per i 470 anni della battaglia di Scannagallo. Le celebrazioni dell'anniversario troveranno il loro cuore sabato 4 e domenica 5 maggio con un programma ricco di iniziative promosse dall'Associazione Culturale Scannagallo che permetteranno di rivivere i fatti avvenuti in Val di Chiana nel 1554. E da tutta la redazione di Arezzo TV il benvenuto invece ad Alessandro. È infatti venuto al mondo nelle scorse ore Alessandro, figlio di Federiche e Tommaso. Un giorno di grande felicità in casa Ulivelli anche e soprattutto per il nonno Gianni. E adesso la pagina dello sport, il calcio. Il difensore dell'Arezzo Alberto Montini ha rinnovato per altre due stagioni. Dobbiamo dare atto al nostro mister che l'aveva già valorizzato a San Donato che nel corso della sua carriera ha cambiato ruolo da essere un giocatore offensivo e diventato un giocatore prettamente di fase difensiva e noi ne abbiamo percepito lo slancio con cui si è rappresentato Arezzo indipendentemente dalla volontà del mister di portarlo perché ci ha colpito il suo attaccamento alla maglia il suo senso di appartenenza e anche le condizioni economiche con le quali aveva accettato questa nuova sfida. Quindi oggi noi siamo qua a premiarlo l'intenzione era di farlo già a gennaio quindi le idee chiare io e Nello le avevamo è un terzino che si adatta benissimo sia a destra che a sinistra e non per niente per la fiducia che oggi vogliamo dimostrare è che il contratto sarà di due anni più un'opzione per il terzo dove sono previste anche opzioni in caso e aumenti di contratto qualora l'Arezzo nei prossimi due o tre anni c'entrasse la Serie B quindi sia io che Nello siamo estremamente felici e queste cose naturalmente vorrei ripetersi sia anche il direttore con il quale ci confrontiamo tutti i giorni. Confermo già tutto quello che ha detto Paolo e aggiungo soltanto che a noi ci ha colpito veramente questa grande voglia e entusiasmo di Alberto di venire in una piazza ambiziosa con grandissima umiltà e niente, siamo contenti oggi inizia un vero percorso che ci deve portare a lungo insieme alla crescita del nostro club. Spero ancora più duraturo perché mi sono trovato veramente bene con la società, con la squadra, con i tifosi il tifo è bellissimo e la società ha delle ambizioni importantissime quindi spero ancora più prolungato. Con la vittoria dell'ultimo turno contro l'Olimpia Legnaia Firenze seconda in classifica la Menander 19 Gold della scuola Baschettarezzo ha chiuso la prima fase del proprio campionato al primo posto della classifica in battuta dando lustro ancora una volta al vivaio Amaranto. La Mesba ha chiuso con 44 punti in classifica precedendo la polisportiva Galli San Giovanni a quota 30, Jokers Legnaia Firenze 28 e l'Aurinziana Firenze 26. Queste formazioni si sono qualificate al girone per il titolo campione toscano che prenderà il via lunedì 22 aprile e che vedrà impegnate anche Lucca primo avversario degli Amaranto Cecina Livorno e Grosseto. Le prime tre squadre classificate al termine di questo girone si guadagneranno la possibilità di accedere agli spareggi per l'accesso alla finale nazionale di categoria. Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci.